dal pensiero di san pio del 22 di ottobre mese del santo rosario la vera umiltà del cuore quella sentita e vissuta più che mostrata bisogna umiliarsi sempre davanti a dio ma non con quella umiltà falsa che porta lo scoraggiamento generando sconforto e disperazione dobbiamo avere un basso concetto di noi stessi crederci inferiori a tutti non l'anteporre il proprio utile a quello degli altri questo pensiero è stato tratto dal libro padre pio un pensiero per ogni giorno dell'anno edito da shalom grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti